Il Campania Libri Festival è un luogo d'incontro, come sono tutte le fiere letterarie. Io vedo un sacco di ragazzi, sono felicissimo di vederli. Credo che l'esercizio della fantasia e dell'immaginazione sia fondamentale nella formazione di un essere umano. Quindi leggere è il primario modo di allenare l'immaginazione. È una palestra ed è irrinunciabile. Quindi io mi auguro che queste occasioni, come tutte le occasioni del genere, servano a convogliare proprio l'interesse nei confronti della parola scritta. La parola scritta ti porta a immaginare ed è una grande fortuna. La lettura è un'attività solitaria, come la scrittura. Ti costringe in un mondo che ti porta alle connessioni, a questa socialità esasperata, ti costringe a avere un modo per pensare, un momento per riflettere. Io dico ai ragazzi di avere il coraggio di essere soli, la solitudine non necessariamente è un fatto negativo.